1 euro Il Galaxy S7! Io lo voglio! È facilissimo! Davvero? Non è che poi devo fare un nuovo abbonamento? No! Davvero? E non è che poi finisco di pagarlo in 2020? Ma no! Davvero? E posso avere sempre l'ultimo modello? Con Smart Open Galaxy S7 è già tuo con 12 rate a tasso zero e dopo un anno dall'acquisto puoi passare al modello successivo. Scoprilo da noi! 1 euro. Batte. Forte. Sempre. Grazie a tutti!